Se non lo fa questo governo qua, l'autonomia, non la fa più nessuno. È una partita ancora da giocare? Assolutamente sì, assolutamente. Cosa si augura questo? Che ci diano l'autonomia, quello, che si possa fare qualcosa, insomma non lo so, adesso vediamo, perché non, cioè lo vediamo che non hanno ancora dato delle risposte. E quindi cosa si fa? Si aspetta a vedere che sia tutto allineato giusto anche con le questioni che sono ancora pendenti. Quindi lei ci crede ancora? I costi standard eccetera, no, vediamo. 2000 giorni vuol dire che non è semplice la soluzione, vediamo cosa succede. Io non sono d'accordo comunque con l'autonomia del Veneto, quindi per me va bene, però non è chiaro. C'è stata una votazione, c'è qualcosa che non torna, penso. Penso per chi ha votato e per chi era favorevole a questo può essere sicuramente una delusione, cioè stanno aspettando appunto quanti giorni mi hai detto. 2000. 2000 appunto, sono tanti anni. Sono passati esattamente 2000 giorni da... Sove, vedo che c'è scritto ogni giorno sul vostro coso, femmo qualcosa. E che cosa? Arrivo qui su, col mitra a Roma. Dai, speriamo questa cosa farà giudizio. Non si capisce dove sia il problema, se è qui o da un'altra parte. E secondo lei dove sta? Secondo me da un'altra parte. Dove? Dove, diciamo, c'è il comando. Quindi giù a Roma, ovviamente. Capisco i Veneti che magari vogliono l'autonomia, però secondo me in uno stato, diciamo, italiano, io resterei, diciamo, con delle idee non di autonomia, resterei con delle idee che siamo tutte province, poi in uno stato complessivo. Da quegli altri di prima non c'era da aspettarsi niente. Li conosciamo chi sono, poche balle. E questi qua non potete pretendere, o non possiamo pretendere, che in sei mesi e un anno facciano tutto.